Signori e signori, buongiorno come sempre Iappo, come sempre avvicina. Quest'oggi vi faccio un aggiornamento dopo tanto, tanto tempo che sono sparito e oggi è giovedì 29 dicembre. Buone vacanze, buone feste a tutti. Vi volevo fare un piccolo aggiornamento in realtà quest'oggi perché l'altro giorno qualcuno su Facebook ci ha scritto dicendo Iappo sei sparito, non mandi più i video, ma cosa è successo? Sei stato internato, ti hanno rapito gli alieni, che cosa c'è? Allora, la risposta è che mi sono trasferito. Come vedete qua, Bank of China, non più a Pechino, ma mi trovo a Hong Kong. Quindi il motivo per cui sono sparito un po' è perché c'è stato di mezzo un trasloco, la ricerca di una casa nuova, capire come gira il vento qua a Hong Kong, dove andare a fare questo, quello o quell'altro, comprare i mobili per casa perché poi a Hong Kong, a differenza di Pechino, la casa non te la danno arredata. Insomma, tanta, 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 tanta carne al fuoco. Volevo ricominciare a fare video quando mi sarei un attimino più ambientato e calmato. Questo è successo, avevo bisogno di essere spronato. Quindi, allora, benvenuti a Hong Kong, che comunque è Cina, e diffidate da chi vi dice che Hong Kong non è Cina, e vi darò un po' di aggiornamenti nei prossimi giorni. Avevo anche fatto un paio di video mesi fa, ma che poi non avevo postato, e quindi magari in questi giorni li potrò tirare fuori. Nel frattempo, come al solito, metti il like, segui il canale, condividi il video, e dammi anche un bel commento di benvenuto a Hong Kong per questa nuova avventura dopo dieci anni di Pechino. Ciao!